Questo video contiene alcune scende di violenza Se pensate che vi possa dar fastidio vi sconsigliamo la visione E questa è bellina Questa è molto bellina Ti dico il prezzo aspetta 165.000 No vabbè Mi fai sognare e poi mi dici che non me lo posso per me Questa è molto bellina Vero? È proprio lo stile di casa che piace a me questo Un po' vittoriano E ragazzi come va? Io sono Feriniki E io sono Stef e questo è già che ma GTA 5 E siamo tornati nell'online Questa volta dovremo compiere Il passo più importante di tutta la serie Ovvero comprare la prima casa Esattamente Questo episodio lo dedicheremo a scegliere Che casa comprare Il nostro budget limite è 120.000 Abbiamo fatto qualche soldino fuori dal video Ma davvero poca roba Infatti sono a 85.000 Come potete vedere Quindi mancano 40.000 Per arrivare al budget massimo i 120.000 Andremo a vedere un po' di case Sceglieremo quella che ci piace di più E compreremo una catapecchia Perché per quei soldi Compreremo una catapecchia Esattamente La prima casa iniziale sarà bruttissima Bruttissima È giusto così Partiamo dal fatto che ho bisogno di munizioni Ho tutto a zero Quindi un attimino per favore Buongiorno Sì devo spendere un po' di soldi Già che ci sono mi ricarico pure io Munizioni Oh sono scontate Eh oh Grande amico Allora mi riempio E poi Ma mi sconti anche le armi Perché mi servirebbe un mitra Pistola mitragliatrice 3.750 Dai guarda te la compro Giusto perché stai facendo gli sconti Sulle munizioni Così quando siamo sopra la macchina Possiamo sparare in modo almeno decente Ma la voglio anch'io Qual è? È tutta a sinistra Salga su Le devo far vedere la prima casa Che per coincidenza è proprio qui Uh dai qui vicino Sì Bello dai iniziamo subito a vedere qualche casa Quindi quante ne dobbiamo vedere prima di tutto? Eh ne dobbiamo vedere una roba tipo 6 Ok quindi almeno una vasta scelta Mi ho selezionato 6 Nello schifo delle case che potremmo comprare Sono in zone diverse E ce ne sono due che mi piaceranno molto La prima è questa Per vederla in modo bellino Ti conviene andare qua sul cartello Sì quello lo so Premi e ti fa vedere una specie di panoramica della casa Quindi guardate che bella opportunità Questa costa 80.000 Quindi è proprio a risparmio puro Wow Vero? È bellissima Questo appartamento C'è pure il cartellone con le cose Gioielli e poker È proprio un edificio a due piani Vabbè dai vediamo se riusciamo L'hai letto sopra? Che cosa? Vendi l'oro Di tua nonna Vabbè fai bene Comunque a me questa non piace No neanche a me Ok meno male che siamo Contando che abbiamo un budget di 120.000 Magari già sui 110 120 forse anche giusti Brava Secondo me troviamo qualcosa di un po' più carino Esatto però Visto che non abbiamo ancora i soldi Ok Secondo me partiamo dal finire i facci soldi E poi ti porto a vedere le altre case Anche perché sono belle distanti Ti dico già questo Sono Cioè se ti faccio vedere la mappa Tipo noi siamo qua Ce ne sono alcune Alcune qui Alcune qui Alcune qui Alcune qui Cioè quindi mi stai dicendo che questa così brutta è l'unica diciamo in città Sì esatto Esatto Cioè dobbiamo pure abitare lontani Lontani ma almeno sono belline Vabbè vabbè qualche sacrificio lo devi fare Vabbè come nella realtà Più vai lontano Capito Più riesci a prenderti qualcosa di carino Esatto Per un budget limitato Io stavo pensando Dimmi Ok partiamo rubando qualche macchina che vendiamo ai concessionari Ok Dopodiché facciamo una o due attività E poi andiamo a sceglierci la casa Perfetto Ti piace? Sì Siamo brothers for life noi Eh vabbè ma lui è l'amore della mia vita guarda Allora lo picchio L'ho sparato nella schiena Allora con che fucile stiamo partendo? Con un mitra Un mitra sì Però ne possiamo raccogliere in giro Esatto Stammi vicino Sì 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 Aspetta c'è un fucile al cecchino vieni Seguimi e coprimi Vai 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 Seguimi e coprimi Ok non c'è nessuno Per lo meno non vedo nessuno Preso Ok Bravissimo bravissimo Mettiamoci qua dietro il muro Ok Ok Allora lo equipaggio Miro Zoom Spostati dal muro personaggio Dove sono? Sono ancora lontani i disgraziati Aiuto Ne ho visto uno Ah l'ho mancato Che cosa sta esplodendo? Non ho idea Allora seguimi Seguimi Dobbiamo Oh mamma mia Sta esplodendo tutto Chi sta tirando cose Aiuta Allora seguimi Vieni 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 No vieni qui dentro Stai attenta stai attenta stai attenta Stai attenta non affacciarti Non affacciarti Ok Però ce ne sta arrivando una da destra Eh esatto È quello che volevo andare a usare Attenta Nella macchina Ci sto provando Ok niente 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 Vieni qua Lo vedi lì in fondo? Sì sì Ok è morto è morto è morto 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 vai Copriti aspetta Provoco il cechino Vai Dov'è? Rimane solo quello È lì in alto l'ho visto Dov'è? Appena si affaccia lo cechino È in alto Sopra Ok Spunta con quella testolina bello Affacciati un attimo A vedere chi c'è giù Dai Forza fai da bravo Ha abbandonato Ha detto Nessuno mi deve uccidere Abbandono Vabbè grazie per i soldi Abbiamo vinto Abbiamo fatto qualche uccisione pure noi 5500 per la prima Grazie grazie Non so quanti round dobbiamo vincere Perché non l'abbiamo fatta noi Quindi non so bene Quanti noi dobbiamo vincere Però ne sono rimasti due Gli altri due sono fuggiti Quindi siamo 5 contro 2 Ma li vedi che stanno arrivando in barca? In barca Aspetta No ma sono fighissimi Ma non ho la pistola per la macchina Accidenti Ma dove vogliono andare? Ok si sta avvicinando uno Spara Attenzione Spara Colpisci Stiamo in tre Che lo stiamo colpendo E vabbè ma quanto sei veloce No io l'ho colpito un po' di volte Anche io Anche io Non è che sia altissimo di vita Facciamo le cose con calma a modo nostro Ok 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 Dove sei? Dietro di... No Stavi seguendo con l'apetto nudo Mi sono confusa Non puoi confonderti Il suo fascino mi attira Non ci posso fare nulla Guardala Guardala come lì Che corre Ho capito cosa devo fare Vieni Lascialo in pace Signora apetto nudo Mi stai dando fastidio Vieni in macchina con noi Vieni Lo stavamo confondendo Sì stai un po' confusa Non ha capito Mi butto dritto a pesce Su quello lì Ok no Non è stata una buona idea No è una buona idea Vado? Sì A zico zago Non ho armi A zico zago Mi ha ucciso Sei vivo? Sì Io non avevo armi per la macchina Quindi mi ha ucciso totalmente Cioè hai sacrificato me per investirlo Ci stavamo per addormentare Ma abbiamo finito di fare i soldi Guardate con Ci abbiamo messo una vita Premo zeta 123.000 Quindi il budget è completato Finalmente ci compriamo casa Ovviamente dobbiamo fare un tatuaggio Per festeggiare Quando compreremo la casa Perché Non si può non fare Tatuaggio alla fine di ogni episodio Finché non diventiamo fedez Esatto Assolutamente Stiamo andando a vedere le case Che ho selezionato Quelle che mi piacevano Tra gli 80 e i 120.000 Dovremmo averne Tipo di tre posti diversi Uno dopo l'altro In questa zona Come potete vedere Dobbiamo fare otto chilometri Una roba incredibile Eh lontanissima Qui dovrebbe esserci Una casetta Che si può comprare Ecco infatti L'avevo segnato proprio Nel punto giusto Ed è questa qua Ma che mi prendi in giro? No Ma è bruttissima Eh lo so Cioè ma proprio da poveri Poverissimi Eh lo so Costa 118.000 però Eh ma dai No dai Per 118.000 Secondo me possiamo trovare di meglio Dato che siamo proprio al limite Del budget Io ti dico che possiamo trovare di meglio Secondo me Va bene Va bene Allora dobbiamo andare Direttamente nella cittadina No no Te non piaceva manca a te no? No 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 Dai un po' troppo Guarda per dare la sensazione Dalle stelle alle stelle Va anche bene Però mamma mia Proprio troppo stelle Eh ma non mi piace neanche la zona Capito Esci non c'è nulla Vorrei almeno qualcosa di carino a fianco Dei campi agricoli Bellissimi No Cioè voglio qualcosa di un po' più civile Sai com'è Ok Allora secondo me Un po' più moderno Il posto che ho selezionato Sarà perfetto Ok Ok Dovrebbe essercene due o tre Quindi comunque è anche una vasta scelta Di cadette Bello Non sono proprio extra lusso Però Vabbè Comunque Extra lusso scordiamocelo Non ho i soldi per il tatuaggio Perché tu gli hai spesi Gli hai spesi tutti in vestiti Colpa tua Hai comprato un sacco di vestiti Io non li ho ancora comprati i vestiti Cioè sono povero Ho da quanto? Tre settimane ormai Sempre la stessa camicia Non li lavi neanche? No Perché siamo sempre troppo impegnati Poi non avendo caldato Li devo lavare Al lago Come le lavandaie Capito? Meglio che tenessi sporchi Che te ne vuoi dire Almeno adesso che mi compro una bella casa Mi potrò fare anche una bella doccia Comunque Permettimi di spararti una volta in testa Così faccio quel chesso Non ci provare Se non mi cancello il Brothers for Life Lo cancello Lo cancello Te lo dico Lo cancello Ascoltami No Inizia ad osservare un po' la zona Alla destra il mare Alle sinistre le montagne Eh già il mare mi piace Già il mare è una bella cosa Guarda che bello il mare Ti piace il panorama? Sì La zona cosa ti sembra? Il mio sogno è abitare vicino al mare Quindi la zona è terribile Cioè proprio ho detto Chiaretta onde è bello solo il mare Però ti giri solo da questa parte Sembra bellissimo Allora La prima è questa Ok Questa celeste Eh questa mica male Vero? Questa vedi è molto Aspetta Calmati un attimo È molto come si diceva Di consumata Questo è il garage Se vedi Ah abbiamo anche il garage Certo 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 C'è il garage Sì è tutta un po' distrutta Però Sembra abbastanza grande Lo so Lo so È un peccato Venga veloce Dobbiamo fare una scelta rapida Quindi questa è una Ok tanto Facciamo pinta che tutte le altre Non ci siano Una Questa Allora dicevo È un po' consumata fuori Però secondo me Dà proprio l'idea di prima casa È molto carina Poi mi piace che ti affaccia Almeno e vedi il mare Almeno una gioia Nella vita ce l'hai Questa è la seconda Ci siamo proprio entrati dentro Giardino abbastanza grande Garage Mattonelle vecchio stile Garage Mi piace No Però l'unica carina È quella verdolina Che abbiamo appena visto Questi credo siano solo dei garage Quindi comunque vedi Puoi anche comprarti altri garage Se vuoi qualche posto in più Per le macchine Eh ma spero che Quando ci possiamo promettere dei garage Ci possiamo promettere anche Di prendere una casa un po' migliore Lo spero anche io Questa è una casa Questa E questa è bellina Questa è molto bellina Ti dico il prezzo Aspetta 165 mila No vabbè Mi fai sognare E poi mi dici Che non me lo posso per me Questa è molto bellina Vero È proprio lo stile di casa Che piace a me Questo È un po' vittoriano Mi piace un sacco Ho una proposta da farti Dimmi Ok Io compro Quella che abbiamo visto prima Quella un po' rovinata Ok Tu aspettiene Mentre vivi da me E ti compri questa E comunque Stanto siamo vicini di casa Sì Il prossimo episodio Tu consegni un pochettino E ti compri questa Dai sono d'accordo Così almeno siamo abbastanza vicini Sì 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 Andiamo andiamo a comparsi casa Ma finito quelle da vedere Non ne abbiamo altre? Sì Ok perfetto Ti voglio far vedere tutto questo paesino Perché secondo me è molto bellino Fuori dalla città principale È il paesino più bello Perché tutto il resto è troppo deserto Però sono troppo deserto È vero Troppo zona un po' brutta Non ci piace Sì dai sono d'accordo Sono d'accordo Il prossimo episodio Mi prendo quella Vediamo anche come è questa dentro Esatto Sono super curiosa Adesso ti ospito Adormentati con il rumore Dell'oceano in sottofondo Ed è senza tetto Che rovistano nei cassonetti Del parcheggio accanto Io Io Questa carinissima proprietà È situata nel cuore Della strada principale Di Palito Bay A breve distanza dalla costa È accanto al supermercato locale Include garage A due posti auto Eh due posti Addirittura mica male Per 120.000 Vai Comprata Aspetta che parcheggia subito Questa macchina Ok Così avrò anche una macchina Rubata Rubata Però almeno ce l'avrai Allora aspetta Dimmi che non è troppo bella Oh che bello Oh che bello No però dai 120.000 Due posti macchina Io pensavo fosse solo uno Guarda che è Tugurio Eh lo so Eh lo so Noi siamo abituati All'altro personaggio Che avevamo il palazzone Esatto Invece adesso qua Si parte da zero Sono davvero emozionato Cosa devo fare per invitarti A me lo chiedi Tu mi hai detto Posso invitarsi Non lo sei tu Sei tu il padrone di casa Scusami Allora Non guardiamo Entra con amici e compagni Vai Puoi entrare Ti ha invitato nel suo appartamento Ok Io sono curiosa Non le ho mai viste queste case Le hai citato sì Sì No era in automatico Eh vabbè che brutta Io vado in prima persona Guarda la mochette La mochette spaccata C'è un alone di fumo Non capisco cosa sta andando a fuoco In sta stanza Secondo me Tutto Sta andando a fuoco qualcosa La televisione probabilmente Oh mamma mia È terribile Ti dico la verità È terribile Allora questa è la cucina Proprio da poveri Da poveri incredibili La mia camera da letto È tristissima Qua che c'è? No questo era il portone di casa È claustrofobica Aspetta che vengo a vedere La camera da letto Eh vabbè Vedi almeno qua Fai due passi Se hai già arrivato A farti i tatuaggi In città devi Girare e rigirare Che poi guarda che bello Abbiamo anche il parrucchiere Poi visto E pure quello delle armi Parrucchiere Tatuaggi Armi Tutto insieme Sì dai Mica male Bellissimo Stiamo molto lontani dalla città Ma almeno abbiamo i bisogni funzionali Tutti vicino a casa Esatto Buono Esatto Allora Oh salve A lei non la conosciamo Speriamo che tatui bene Buongiorno Avevamo un tatuatore fedele Però lei mi sembra Oh mamma mia Sto studio non mi sembra molto pulito Ci verrà qualche malattia strana Sì anche secondo me Ci verrà un'infezione e moriremo Visto che non c'è altro Ci dobbiamo un po' arrangiare Vedete la mano? Sono dei mattoni Che stanno ad indicare In modo un po' filosofico La casa Che ci siamo comprati Quindi avere Mattone dopo mattone Un tetto sopra la testa Siamo riusciti ad avere La nostra casa È bruttissima Io ti dico la verità Il tatuaggio è davvero bruttissima Sembriamo macchiati nella mano Poi si vede pure Sembriamo brutti Ma a me ne si vede anche Quello nel braccio Aspetta Vieni fuori Vieni fuori Vieni fuori Quello bellissimo della scorsa volta E poi Sembra che abbiamo tipo la malaria O che qualcuno ci ha pasticciato la mano Non lo so E vabbè Non ce n'erano altri Che stavano ad indicare Diciamo una casa O comunque qualcosa del genere Ci dobbiamo contattare Che poi ti dirò Guarda Io avendo la mezza manica Abbinata all'altro Non è neanche poi così male Ti dirò Ti dirò E' solo a te che si vede solo quello Sembra che sei Capito Che ti sta rompendo la mano Però in effetti così abbinata Ascolta un attimo Prima di finire l'episodio Dobbiamo fare una cosa Che ci dimentichiamo di fare sempre Dimmi Comprarci le patatine Sono arrivata al market Ci hai fatta Come si entra? Non lo so Aspetta Non solo è lontano Fa pure schifo Qua Vieni Ci sono Ci sono Fa schifo No dai E' carino dentro Guarda E' pieno di cose Salve Cosa ci puoi vendere? Aspetta Aspetta Guarda in prima persona Guarda in prima persona Che roba buona che c'è Oh che buone Mamma mia Eh sì Ci prendiamo un po' di ketchup Guarda le caramelle Queste sono per te qui Assolutamente sì Le cose surgelate Si fanno sempre comodo Che le scaldi in 5 minutini E ce le prepariamo Qua c'è tutta la roba patatine Bellissima Tutto è per me Buongiorno Buongiorno Allora Io vorrei Un po' di cola Un pacchetto di Redwood Ma sono sigarette? Sì Le sigarette Non ci mangi con le sigarette Mi spiace Non avevo capito Allora Questa è una barretta energetica Quindi prendiamone un po' Io compro un sacco di Coca Cola Cioccolato affondente no Perché sono allergica Ok Ok E poi cosa c'è? A me il giocato affondente non piace I dolci che i bambini E i fattoni amano A io Dai Pure a io Capite? Era per concludere Comunque direi di fermarci così per questo episodio Mentre scappo dalla polizia E proprio la rappresentazione è perfetta Finalmente ci siamo comprati la casa Ora cosa manca? Ci manca ovviamente un veicolo Assolutamente sì Ci manca dopodiché ovviamente il posto dove creare la nostra società Perché lì si inizierà a fare sul serio Lì prenderà del tutto senso la nostra serie Quindi diciamo che è il punto fondamentale Sinceramente credo che abbiamo bisogno davvero di fare le rapine Perché? Sì Sì ne sono praticamente sicura Perché secondo me per fare più soldi sono fondamentali Quindi muoverci e arrivare a livello 15 sono le rapine No Anche quello le possiamo già fare? No no credo che se qualcuno ci invita le possiamo già fare Però avviarle noi tipo? Avviarle noi non lo so Però magari il prossimo episodio facciamo così Facciamo un episodio transitorio Ovvero Finiamo di fare i soldi per la tua casa Così compriamo la tua casa E ci rubiamo qualche veicolo che ci teniamo in garage Qualcosa di bellino Vendiamo qualche veicolo alle concessionarie Ok E facciamo per la prima volta le missioni giornaliere Dato che saremo al 15 Perché io in questo momento sono al 14 e mezzo Sì sì è vero Ti piace? Sì mi sembra perfetto come prossimo episodio Perfetto Spero che ci riuscite Si lasciateci un bel like E questa è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerarli da iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Ciao